Ha denunciato i suoi estorsori, tante sofferenze, tante tribolazioni e oggi il Presidente della Repubblica l'ha insegnita del titolo di Cavaliere. Sì, dopo tante sofferenze è sicuramente un motivo d'orgoglio, soprattutto anche per il motivo per la quale viene conseguita questa onorificenza. E quindi sono molto molto contento e la dedico sicuramente a tutte le persone che lottano per il proprio ideale e a mio figlio che ovviamente cerco di riportare questi valori anche a lui e a tutte le generazioni future. Ecco, se dovesse tornare indietro tornerebbe a denunciare? Beh, assolutamente sì perché non potrei vivere con questo peso sulla coscienza, perché non potrei alimentare le attività criminali, quindi sì, assolutamente lo farei di nuovo. Ecco, e adesso nel futuro quali progetti? Eh, nel futuro i progetti sono di fare una vita normale, tranquilla e poi insomma prenderò quello che verrà e prenderò le mie decisioni in base alle possibilità che ci saranno da qui al futuro. La cerimonia quando? La cerimonia sarà giorno 10 e l'onorificenza verrà consegnata dal prefetto sul decreto appunto firmato dal presidente Mattarella.